Buongiorno, sono Stella, ho 38 anni e sono appassionata della pasticceria. Questa passione l'ho proprio da piccola, visto la mia mamma che mi preparava sempre le merendine per la scuola e ero sempre lì presente a guardarla. Lo preparo anche tuttora, anche io per le mie filie. Però diciamo che a volte mi viene bene, le cose a volte mi vengono un po' meno. Visto questo video di maestro Andrea ho deciso di ascoltare queste tre lezioni gratis che lui propone. Mi è piaciuto tanto e ho deciso di acquistare il corso intero. Anche il corso intero diciamo che viene molto spiegato bene, mi piace tanto perché viene spiegato in maniera semplice, intuitiva. Lo consiglio a tutti che vogliono fare le cose fatte bene perché viene spiegato veramente in maniera molto bene. Lo consiglio a tutte le casalinghe che sono appassionate della pasticceria o anche ai professionisti che vogliono approfondire di più il loro lavoro. Lo consiglio un po' a tutti. Io lo ringrazio tanto di quello che mi sta insegnando. Grazie, grazie maestro Andrea.